È stata una partita, magari sono iniziata con qualche difficoltà, poi abbiamo trovato un episodio, siamo passati in vantaggio e poi dobbiamo gestirla meglio, dobbiamo sicuramente sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto, che ne abbiamo avute parecchie e dopo quando rimani purtroppo in partita, cioè tieni la partita aperta, può succedere sempre di tutto, siamo molto delusi veramente. C'è poco da parlare, dobbiamo pensare subito alla prossima, dobbiamo, dobbiamo metterci in carri di lato, dobbiamo fare punti, in questo momento è difficile anche parlare, pensiamo ad Avellino o Fiduciosi, sicuramente da domani inizieremo a preparare la partita, sappiamo che abbiamo pochi giorni, quindi so che è difficile ma dobbiamo stare su col morale, arrivare alla partita Fiduciosi, sappiamo che possiamo fare una grande partita e ripartire più forti. Grazie